Cos'è quella? Sessanta minuti. E quanto è bastato per condurre l'umanità praticamente sull'orlo dell'estinzione. Ma l'uomo si è mobilitato. E' nata una nuova era. La tribù è già indebolita. Non avranno alcuna possibilità. Ho sempre saputo che fossi diversa, Aloy. Credo che tu sia un dono della madre. Non ho mai avuto una madre. Non sono una persona, ma uno strumento. Realizzato da una macchina. Nata dalla distruzione e dal fuoco. Lei cerca solo la speranza e dopo... quello che ho visto potresti essere tu a darla. Io non resterò ferma... al cospetto del male. Lei minaccia l'ordine naturale delle cose. E' un viaggio pericoloso. E' una caccia. Lo farai da sola. Non penso. Hai commesso il più grande errore della tua vita. Sei più straordinaria di quanto pensassi. Non hai capito chi sono, purtroppo. Sono più feroci, più forti. E' ora di farsi da parte. Salite! E' molto tempo che ti stavo cercando. Tua madre. Lei aveva trovato qualcosa di pericoloso. Ho già affrontato quel tipo di macchina. Lì, la vita è un test di sopravvivenza all'estremo. Poco accogliente. E' successo qualcosa di inaspettato. Niente potrà mai opporsi a questo. A me sembra che stiano creando un esercito. Campanile! Si prenda di volerlo fare. Una volta entrati non si torna indietro. Devo farlo. E' successo. E' successo. Grazie a tutti.